Potrebbe essere un arbitrato? Potrebbe sì, sicuramente, potrebbe esserci un'azione di questo tipo. La società potrebbe, a mio avviso, comunque ancora fare un'azione nei confronti per ottenere comunque o una causa per danni o danno all'immagine o comunque un licenziamento per giusta causa che giustifici. Ma che sono gli estremi per la giusta causa? Potenzialmente sì, quello che è stato fatto nei confronti del giornalista con menzione verso quelle dichiarazioni nei quali si ipotizzava una sorta di rifare, attenersi a quello che la società gli diceva. Non solo è un gettar discredito verso l'operato di un professionista, quale è il direttore Alciaco, ma anche nei confronti di quello che è il suo datore di lavoro. Quindi sicuramente non è una dichiarazione che abbia fatto bene all'immagine della società, ma può anche danneggiare. Quindi potrebbero esserci degli estremi o che comunque vengano utilizzati da parte della società, allorquando poi ci sarà da fare un'eventuale transazione, qualora decidano le parti di farla. Da questo punto di vista un potere forte potrebbe essere in mano alla società all'aver promosso una causa i cui esiti ovviamente nessuno può assicurare in un verso piuttosto che in un lato, ma sicuramente potrebbero portare quantomeno ad una grossa multa. Quindi io ritengo che alla luce di quello che è successo si possa ottenere un accordo che sarebbe l'ideale da parte di entrambi, quindi meglio un buon accordo transattivo piuttosto che poi aggredirsi nelle sedi giudiziarie.